Buongiorno, siamo arrivati alla dodicesima puntata e vi devo dire con gioia che il libro è uscito proprio oggi e le pillole che vi sto presentando sono tratte da quello proprio che ho scritto in questo libro che parla di come la luce è stata importante in tutto lo sviluppo della fisica moderna. Questa volta parleremo di uno scienziato francese, non abbiamo mai parlato di scienziati francesi, ma rompono nella nostra scena a metà del 1800. Si tratta di Hippolyte Fissot che per dirla tutta sembra un sosia di Giuseppe Verdi che è più o meno contemporaneo, sembrano gemelli separati dalla nascita. Fissot è parigino, ha un papà medico che voleva che suo figlio diventasse dottore e infatti si iscrive alla scuola di medicina ma gli vengono dei mal di testa tremendi che lo obbligano a stare a casa da scuola e lui si accorge che più stava a casa da scuola meglio si sentiva. Quindi quando ritorna dopo un anno e mezzo, due anni all'università non fa più medicina, la fa una facoltà scientifica e incontra dei personaggi molto sia famosi che bravi. Innanzitutto ha un compagno di scuola che è Jean Foucault, quello del pendolo di Foucault tanto per dire, anche lui bravissimo, molto eclettico e ha come insegnante, uno degli insegnanti che ha è Louis Daguerre, l'inventore del daguerrotipo e anche seppur così giovane Fissot si accorge che non è possibile che per fare un daguerrotipo uno debba stare in posa per 20 minuti immobile e quindi si ingegna col suo compagno di scuola Foucault a migliorare la sensibilità dell'emulsione fotografica e riesce a passare da 20 minuti a 20 secondi di esposizione, quindi un guadagno notevolissimo. Poi incontra François Aragot che era l'astronomo più importante di quei tempi francesi, anche lui molto eclettico, era anche un fisico, era anche un chimico e purtroppo stava perdendo la vista quando Fissot e Foucault lo incontrano, ma Aragot che è consapevole che loro avevano migliorato l'emulsione fotografica, ha l'idea e la dice loro di fargli fare la prima fotografia astronomica della storia, fotografare il sole, cosa che loro fanno. Fissot poi sarà e diventerà famoso anche perché indipendentemente da Doppler ricava e deriva le formule per l'effetto Doppler, che è l'effetto per cui una sorgente sia di suono sia di luce che si muove verso di noi, sembra emettere o suono o luce con frequenze maggiori e invece una sorgente che si allontana viene ascoltata con frequenze minori. Ma la cosa per cui Fissot è rimasto nella storia della scienza è la misura della velocità della luce fatta per la prima volta qui sulla Terra senza l'ausilio di usare orologi, tipo le orbite dei satelliti intorno a Giove, che abbiamo visto una delle volte scorse. Che cosa pensa Fissot? Innanzitutto dobbiamo introdurre un attore di questa storia che è uno specchio semiriflettente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi facciamo incidere della radiazione dei potoni da questa sorgente verso lo specchio, abbiamo che più o meno metà vengono riflessi, ma l'altra metà riesce a passare attraverso lo specchio, quindi semiriflettenti in questo senso. L'idea di Fissot è abbastanza semplice per misurare la velocità della luce. Lui dice, ma supponiamo di avere una sorgente di luce qua, nel mio laboratorio, la facciamo incidere su uno specchio semiriflettente, quindi metà della luce passa attraverso questo specchio e se ne va non usata, mentre l'altra metà viene riflessa e va verso una ruota dentata, che per ora supponiamo ferma, immobile, passa attraverso due dentini, raggiunge uno specchio lontano da dove sono io nel laboratorio, poi questa stessa luce torna indietro e se tutto è allineato bene, questa luce ripasserà attraverso questo spazio tra i due dentini della ruota dentata e cosa succederà? Beh, questa luce passerà attraverso ancora lo specchio semiriflettente e metà di questa luce raggiungerà il mio occhio o strumento di misura. Ecco, quindi la luce ci metterà un certo tempo a fare tutto questo tragitto e l'esperimento tratta proprio di questo, misurare il tempo per cui la luce percorre questo tragitto che è misurato essenzialmente. Tra l'altro, qui vi ho fatto vedere che l'esperimento si fa, lui lo fa da casa dei suoi genitori e ha messo uno specchio a Montmartre, la distanza tra la sorgente di luce, la ruota dentata e lo specchio riflettente è di 8.633 metri. Ma torniamo alla ruota. Ecco, se io adesso metto in rotazione la ruota dentata e lo faccio molto lentamente, che cosa succede? Eh, la luce passa attraverso il buco tra i due dentini, fa tutto il suo viaggio, torna indietro e si trova ancora lo spazio tra i due dentini libero. Quindi può passare attraverso la stessa cosa, perché la ruota va piano, la luce è più veloce. Ma se io gradatamente aumento il moto di rotazione di questa ruota, arriverà un certo punto in cui, sì, la luce riesce a passare andando verso Montmartre, andando verso lo specchio, ma quando torna indietro, la ruota è girata così tanto che il tragitto è interrotto da un dentino e quindi io non vedo più la luce. Posso continuare a aumentare la velocità della ruota e allora, dopo un po' di oscurità, rivedo ancora il raggio di luce che si palesa perché riesce a passare nel dentino di fianco, che a questo punto, essendo la ruota molto veloce, si presenta lungo la traiettoria del raggio di luce. In questa maniera ho un controllo abbastanza accurato sui tempi e posso quindi, facendo semplicemente la divisione tra la distanza percorsa e il tempo che ci mette ad andare avanti e indietro, misurato attraverso questa ruota dentata, e misuro la velocità della luce e scopro con questo esperimento, fatto da Foucault e poi migliorato da Foucault, e trova 315.000 km al secondo, che possiamo confrontare con la velocità della luce che sappiamo, adesso lo sappiamo con molta maggiore precisione, è un valore che è di un rispettabile 3%, 3-4% maggiore del valore vero, quindi un risultato notevole. Uno si può chiedere, ma come mai hanno dovuto fare ancora questo esperimento se con l'aberrazione era ottenuto un valore che era addirittura più preciso? Ma perché l'idea iniziale di Aragò, che ha spinto il giovane Foucault a farlo, era che avendo un laboratorio qui sulla Terra in cui poter fare la misura, si sarebbe potuto in futuro misurare la velocità della luce non solo nell'aria, ma anche nei vari materiali, nell'acqua, nel vetro e così via, cosa che però non faranno i due amici, direi amici concorrenti Foucault. E per queste cose grandiose che Fisot è riuscito a fare lungo la sua carriera, ha meritato di aver inciso il proprio nome nella prima base della Torre Eiffel, che riporta il nome di 72 francesi che si sono distinti per le loro opere, le loro scoperte. Sono tempi antichi e devo dire purtroppo che sono 72 nomi di maschi, non ce n'è anche una donna. E vabbè, comunque grazie per l'attenzione, come al solito, e arrivederci alla prossima settimana. Grazie.